Ciao ragazzi e ciao ragazzi, questa sera video di mi preparo con voi un attimo che sistemo questa videocamera, mi taglierà un po' la testa ma sono abbastanza vicino allora, cosa sta succedendo nella mia vita? è un bel po' che non registro video del genere è per il semplice motivo che il tempo materiale per poterli registrare è sempre più scarso nella mia vita comunque per registrare un video del genere occorre avere un po' di tempo per prepararsi a volte sono anche più lunghi rispetto a un videotrucco normale allora, l'ultimo risale a ottobre, fino a ottobre dell'anno scorso nel frattempo cosa è successo? allora, niente di particolare sto ancora lavorando come operatrice telefonica per una compagnia quindi sto in un call center e mi occupo di customer care tecnico quindi, come si dice? diventa preoccupante che già inizio il video e non riesco a parlare perfetto allora, sì, mi occupo di risoluzioni tecniche rispetto a problematiche della sim in questione diciamo che così va bene come risposta per il resto la vita prosegue abbastanza bene nel periodo di Natale non ho fatto grandi cose anche perché questo tipo di lavoro impegna 7 giorni su 7 e i giorni liberi possono essere random durante la settimana quindi possono capitare dal lunedì alla domenica le due giornate libere e come orari sono dal 24 ore praticamente ho fatto anche... un attimo solo... eccomi ho fatto... mi è capitato anche nel periodo di marzo di lavorare di notte quindi di fare il notturno e lavorare dalle 11 di sera alle 7 del mattino quella è stata veramente una settimana un po' particolare non me l'aspettavo così stancante anche perché avendo un contratto a 20 ore traghette giocandomi due notti quindi 8 e 8, 16 l'altra giornata da 4 pensavo mi andasse un pochino più rilassata e invece dovendo fare le notti tu praticamente ti perdi oltre alle giornate in cui hai le notti anche le giornate di riposo perché non... io almeno quando tornavo alle 8 del mattino l'unica cosa che volevo fare è schiattarmi sul letto e andarmene a dormire almeno per altre 8 ore ovviamente ti svegli il pomeriggio l'unica cosa che puoi fare è mangiare magari stravaccarti di nuovo su un letto e aspettare di uscirtene per andare a lavorare quindi quando si fa il notturno si perdono praticamente giornate di vita non puoi fare null'altro mi allungo di nuovo e io ho perso qualche pezzo qua dietro ogni tanto scusate se salgo in scena ogni tanto perdo pezzi tra la mia collection passa praticamente mia sorella per il resto durante il periodo di Natale ho lavorato il 24 di mattina quindi sono riuscita a farmi il giro aperitivo a Salerno si usa, si porta di moda il pomeriggio del 24 e del 31 andai in giro nel centro nel centro e salutare amici brindare con amici tutto è partito per gli ultimi acquisti gli ultimi regali quindi partì da questa moda dall'esigenza di dover fare acquisti praticamente la sera prima di Natale il 24 e si è trasformata almeno per i ragazzini in una moda di bere e sentirsi male il pomeriggio prima del cenone ho visto tanti ragazzini anche molto giovani rovinarsi il cenone di Natale perché avevano esagerato con l'alcol a me piace bere non lo nigo mi piacciono mi piacciono le birre mi piace il vino mi piacciono i cocktail c'è stato un periodo in cui ero abbastanza non pratica diciamo così quindi tante volte mi è capitato di esagerare e sentirmi male non fino al punto di andarmene in cometilico ho visto casi in cui ragazzine ragazzini giovani anche 14 anni in cometilico se non proprio in cometilico in una fase molto vicina al cometilico quindi su questa non mi piace molto non ho vissuto queste giornate queste questo noi lo chiamavamo l'aperitivo prenatale con il mio fidanzato perché lui quest'anno come l'anno scorso ha lavorato per le luci d'artista che facciamo qua a Salerno e quindi durante il 24 e il 31 aveva il turno quindi non ci siamo potuti vedere per brindare insieme come dicevo il 24 al lavoro ho dovuto lavorare fortunatamente poi avevo il 25 libero invece a capodanno mi è capitato il contrario cioè il 31 libero e ho dovuto lavorare il primo di quest'anno fortunatamente mi è capitato un turno quasi pomeridiano e quindi ho dovuto fare il pranzo con la mia famiglia poi prepararmi e andare a lavorare questo tipo di lavoro sacrifica molto la vita familiare la vita sociale non è un lavoro che vorrei fare a vita anche perché ho altre ispirazioni quindi nel frattempo che mi guadagno un po' di soldini e riesco a non rimanere a casa nel dolce far niente mi guadagno un po' di soldini con questo lavoro nel frattempo cerco e continuo a studiare peraltro io comunque sono sociologa quindi vorrei riuscire a lavorare come tale ci stiamo lavorando questo è sicuro non mi faccio abbattere dalla situazione economica brutta italiana anzi direi quasi europea però a volte ci penso tanti anni di università un pilo mezzo capello tanti anni di università puoi fare l'operatrice telefonica vabbè ma è sempre una questione di tempistiche ora c'è questo e si lavora per poter avere altro non mi abbatto sinceramente poi dopo il Natale vabbè durante il periodo di aprile me ne sono andata in ferie preso i primi sei giorni di ferie accumulate e siamo andati a trovare un amico in Irlanda a Dublino e ho scoperto che è veramente una bellina una bellina una bella cittadina forse l'unica cosa che non mi piace di quelle zone ho visto anche Londra è l'assenza quasi totale del sole devi essere molto fortunato a beccare la giornata con un po' di sole noi abituati al sole quasi perenne tutto l'anno andare là e non vederlo fa male mi piace troppo il sole sono un animale a sangue freddo quando fa freddo fa freddo non ce lo faccio mi sa che l'ho messo un po' troppo di qua andiamo a sfumare un pochino e ho le mani in blu praticamente non fa niente quindi siamo stati a Dublino come dicevo mi è piaciuta tantissimo l'unica cosa ripeto ribadisco è la mancanza di sole sembra che il sole non sorga mai così come era stata la stessa sensazione che avevo avuto quando sono andata ad Amsterdam però nel contempo comunque è molto bella come cittadina nel frattempo la palla a volo è sempre persistente assistente e esistente anzi continuiamo con la vita fuori dalla palestra perché di palla a volo ne devo parlare abbastanza allora continuando quindi questo ad aprile maggio queto ho iniziato ad andare a mare abbastanza presto quest'anno inizio giugno avevo già fatto diversi bagni il 21 giugno inizio estate avevo già una sputacchia bella di abbronzatura cosa rarissima considerando che fino a qualche anno fa io l'estate la intravedevo praticamente seconda o terza settimana di luglio fino a direi terza settimana di agosto per poi iniziare a preparare gli esami quest'anno ne ho visto proprio tanto tanto voi considerate che io quest'anno ora siamo a fine agosto ho finito come creme solari una 50 per il viso vabbè quella l'avevo iniziata una 50 più per il viso che avevo iniziato a fine estate l'anno scorso che avevo conservato in un luogo scuro asciutto e quindi l'ho portata a termine quest'estate ne ho iniziato una seconda che è praticamente a metà e io la crema viso la metto fino al collo e quel po' che rimane lo uso anche sulle mani e per il corpo ho finito una 30 più una 50 più e una 30 più e la 20 è praticamente ce l'ho qua andiamo se si riesce a vedere no non è questa la 30 vabbè quella è del doposole e praticamente la confezione simile a questa sarà arrivata più o meno qua quindi quest'anno proprio tanto mare ho azzardato la 20 perché vedo che il mio corpo comunque ha raggiunto una buona intensità di colore e quindi me la sono sentita di andare a mettere solo sul corpo la 20 sul viso no non mi permetterei mai sul viso sempre la 50 più guardo di là perché ce l'ho su da questo lato e quindi mi ha fatto tanto mare abbiamo gironzolato poco siamo andati quasi sempre a Pestum all'oasi di legambiente praticamente è una spiaggia libera gestita ripulita dai volontari di legambiente mi piace tanto perché è molto ampia c'è una bella pineta all'ingresso pulita bellissima fresca la spiaggia è molto pulita è libera quindi non hai costruzione di dover affittare l'ombrellone eccetera ma ti porti l'ombrellone se lo vuoi hai libertà puoi giocare poi a Pestum c'è un mare che rimane basso per tanto dalla riva tanti metri dalla riva e di tanto in tanto più vai verso il mare trovi diciamo dei rialzamenti di sabbia quindi diventa ancora più bassa per me che mi piace nuotare non è il massimo però è divertente si riesce a giocare tipo con i racchettoni a pallavolo senza dar fastidio agli altre persone che si stanno godendo la giornata di mare poi siamo stati siamo stati a oddio a Positano non usciva prima siamo andati ad Amalfi con il motorino una domenica che non potevo andarmene a mare quindi ne abbiamo approfittato e siamo andati col motorino ad Amalfi bellissimo abbiamo mangiato bene il Duomo è di una bellezza pazzesca metto un po' di punto luce buona bella 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 poi siamo stati al mare sempre in costiera Amalfitana a Positano abbiamo preso il traghetto del mare il traghetto e siamo andati a farci un bagno lì anche lì molto bello e là ci hanno scambiato per turisti praticamente noi non volevamo prenderci un affittare un ombrellone quindi siamo andati alla spiaggia libera e mentre passavamo passavamo per andare verso la spiaggia libera un gestore un brutta dentro di qualche lido in inglese come no grazie ah siete italiani si sono fatto un sacco di risate perché non ci andava proprio poi le ferie le ho prese in con 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 il matrimonio di mio cugino si è sposato a luglio e lui è di della Calabria quindi abbiamo fatto praticamente siamo partiti il giorno prima del matrimonio poi c'è stato il giorno del matrimonio e il giorno dopo ovviamente siamo rimasti con la famiglia in quella zona vicino a Reggio Calabria a Palmi e dopo subito dopo siamo partiti per le ferie di mare e siamo andati a Taormina quest'anno un bellissimo mare anche se per i miei gusti per i miei gusti c'erano troppe meduse io fortunatamente non sono stata attaccata dalle meduse invece mio fidanzato si praticamente gli dissi dai amore facciamoci due bracciate che l'acqua era stupenda lui vabbè vedi che loro dicono le meduse si lo so vabbè non fa niente praticamente verso metà percorso che avevamo preventivato si sente toccare la mano non ti preoccupare sarà quel sughero che ho visto prima vai tranquillo poco dopo la mamma hanno preso ma come fai a saperlo guarda qua c'aveva tutta la mano rossa praticamente con una bracciata ha dato uno schiaffo alla medusa e la medusa ha reagito di conseguenza e fortunatamente c'era la parafarmacia vicino al lido dove eravamo andati e quindi il farmacista poi gli ha dato prima uno sticchino per far passare il prurito e il dolore e poi da mettere la crema antinfiammatoria mi sembra di sì vabbè sono cose che capitano praticamente me lo rinfaccerà a vita è sempre colpa tua se io mi faccio male e c'ho sempre ragione sto scherzando poi siamo andati a vedere ovviamente il teatro molto bello ovviamente è una cosa fantastica l'abbiamo vista al tramonto con il mare praticamente è costruito ovviamente su un promontorio perché sempre così costruivano i greci quindi su un promontorio di modo tale da dare già la cadenza naturale per gli spalti e poi in fondo il palco con una struttura alle spalle e per quello che sono riuscita a capire normalmente i teatri alle spalle avevano un muro sul quale si costruiva la scena praticamente questo è il palco qua ci sono gli spalti e qua c'è un muro e si costruiva la scena se non erro però veramente vado ipotesi ora il teatro è dietro allo sfondo del mare perché non c'è più nulla ma neanche prima ci doveva essere qualcosa quindi era molto l'atmosfera del mare però non ne sono sicurissima quindi non vorrei dirvi una minchialata usando i termini proprio siciliani però molto bello siamo stati poi in un borgo praticamente un borgo si medioevale dal quale si vedeva una vista dell'Etna la sera al tramonto bellissimo non mi ricordo come si chiama questo borgo se ricordo ve lo lascio giù nell'info box il nome perché veramente merita merita tantissimo e abbiamo la taormina sto spaziando una parte e l'altra comunque a taormina c'è un isolotto naturale molto vicino anzi praticamente attaccato alla costa si chiama isola bella e ho fatto un bagno praticamente con la maschera sono entrata prima è una specie di di piscina naturale così per farmi una passeggiata sono salita su una roccia mi sentivo la principessa mi chiamava la sirenetta e poi ho fatto un bagno con la maschera c'erano tutti i pesciolini molto molto bello come atmosfera e ho incontrato una medusa il problema con le meduse non è tanto la medusa in sé ma quando si trovano in branco perché ovviamente prendono tutto lo spazio per nuotare loro e se incroci la loro traiettoria loro per difendersi ovviamente sono gelatina attaccano e ti toccano con i tentacoli e ti lasciano il veleno la sostanza orticante quella che fa male invece se ne incontri una sola io ne ho incontrata una che aveva praticamente la testa così nuotava per fattacci suoi io nuotavo per fattacci miei nessuno delle due ha dato fastidio all'altra tranquillissima è stata una bella esperienza poi sempre lì vicino siamo andati ai giardini Naxos al mare in cui la spiaggia è diversa praticamente taormina sono tante piccole piccoli golfi non so se il termine tecnico il termine giusto è questo ma praticamente la costa è molto frastagliata invece a ai giardini Naxos c'è la spiaggia grande cos'era? una zanzara probabile la spiaggia grande quindi con un mare differente ma io vedo cose che volano in camera vabbè e lì il mare non mi è piaciuto però siamo stati benissimo all'ido che avevamo scelto e poi sono finite le ferie il giorno in cui sono dovuta rientrare avevo una tristezza in mani addosso la prima telefonata non l'ho fatto perché sono una persona educata poi nel frattempo come dicevo io ho due giorni liberi a settimana al lavoro mi è capitato la settimana di ferragosto il lavorativo venerdì fino a mezzogiorno e poi libero sabato e domenica il turno delle 5 del pomeriggio quindi praticamente vogliamo andare a Marina di Camerota venerdì pomeriggio per poi ritornare domenica mattina domenica pranzo non abbiamo trovato assolutamente nulla tutto stracolmo vabbè come giusto che sia è la settimana di ferragosto ma ci siamo rimasta male fortunatamente il mio fidanzato ha la casa a Praia Mare quindi siamo andati lì abbiamo fatti un bagnetto in Calabria che io adoro il mare della Calabria cercando di fare un po' di contouring e questo poi ah questa settimana questa settimana che sta per iniziare mi è capitato il fine settimana libero praticamente lavoro venerdì fino alle 14 e poi ho lavorativo lunedì quindi sabato e domenica sono free come diciamo noi e o andiamo a Marina di Camerota o riscendiamo giù in Calabria ora vediamo credo più Marina di Camerota visto che con quel bagno in Calabria ce lo siamo fatti io a Marina di Camerota ci andavo quando ero piccola con i miei genitori in un campeggio poi ci sono riandata un po' più grande diciamo sì nel pieno dell'adolescenza perché mia zia aveva il posto roulotte in un campeggio e quindi mi è andata a fare una settimana di mare da mia cugina praticamente e poi non ci sono più tornata mi piacerebbe ritornare ora vediamo e questo per quanto riguarda la situazione lavorativa e ferie ah per quanto riguarda le ferie mi hanno rinnovato il contratto fino al 19 ottobre e ho chiesto quante ferie ancora avessi a disposizione e me ne hanno dette 10 quindi io mi sono presa ho già prenotato le ferie praticamente la seconda settimana di ottobre a tre giorni dalla scadenza del contratto e vorremmo e vorremmo a Vienna vuoi andare a vedere il palazzo di Sissi io adoro Sissi ero piccolina e secondo me ho visto almeno cento volte il film i vari film con Robert Schneider Robert Schneider qualcosa del genere non so pronunciare il suo nome chiedo scusa che chiedo Benia e quindi sono curiosa di andare a vedere i posti in cui lei faceva l'impero a Twitch siamo stati anche a Budapest che era tra le città dell'impero la sua preferita dove si sentiva più a casa a meno per quanto si racconta e sia romanzato nel film e anche poi nei vari documentari che ho visto su di lei e sulla sua famiglia tanto che mi piace quella serie di film che a inizio della carriera youtuberiana fece anche un trucco ispirato al film se vi interessa ve lo lascio nella i delle informazioni era proprio all'inizio quindi molto casariccio molto tranquillo per quanto riguarda la palestra la pallavolo l'anno si è chiuso con la salvezza anticipata tipo quattro giornate prima della fine oggi ho chicchiato relativamente la cosa la cosa che mi fa più incazzare della palestra è che quel grandissimo del mio mister si so che non è la mia categoria la serie C però non ha per niente fiducia quando poi si ricorda di me si ricorda di me quando è disperato che le sue centrali non ci sono ad esempio questo inverno la prima centrale se ne andò in ferie per tre settimane una cosa del genere e quindi l'ho sostituita io non ai livelli della titolare però sicuramente non ho fatto figuracce e poi quando l'altra centrale praticamente ha giocato una schifezza e mi ci ha dovuto buttare dentro a volte fa passare la voglia come me l'ha fatta passare in questi ultimi giorni cosa è successo ce ne facciamo dopo cosa è successo lunedì inizia la preparazione atletica io non ne sapevo assolutamente nulla praticamente si sapevo che avremmo iniziato a fine agosto perché poi c'è la coppa campania ecc c'è il campionato ecc quindi immaginavo come gli altri anni che inizia metà agosto dopo ferragosto partiva la serie di telefonate per dire ok ci vediamo tutto il giorno ricominciamo ecc quest'anno non mi ha chiamato una ragazza che gioca con me ha organizzato una pizzata e c'era anche il mister nel gruppo su whatsapp si era parlato della preparazione atletica però io non avevo ancora avuto news e notizie mi sono stata buona tutta la pizza a un certo punto ho lanciato il salsolino al dirigente e ho fatto ah quest'anno fate anche le nuove divise si 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 oh che bello poi facevo vicino al commentatore sportivo che è un dirigente quest'anno mi sedo accanto a te a discutere della partita faccio io il commento tecnico faccio questo tipo di battute qua e a fianco io mi ero seduta apposta accanto all'allenatore sto per capire a un certo punto il dirigente mi fa allora sei pronta pronta per cosa e lunedì iniziate ah veramente ho detto io io non ne so niente non ho ricevuto nessuna chiamata no 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 quello francesco ti ha ovviamente ti ha considerato sei nella lista di quelle che ricominciano già da luglio io non ne so niente finché non vengo avvisata io non mi presento ovviamente o me lo dice il dirigente in modo ufficiale o l'allenatore in modo ufficiale altrimenti che ti presenti a fare dai non esagerare no perché non mi interessa si è chiamato le nuove ho detto non ha più bisogno di me come ce la dva prima e che fa non mi chiama nemmeno questo sembra anche ci stava l'allenatore che faceva finta di non sentire a fine serata lancio la pietra e faccio fare l'allenatore allora ci vediamo lunedì lunedì perché cosa fate lunedì ci mangiamo un'altra pizza ho detto io ma che dobbiamo fare l'allenamento ci vediamo alle 6 e un quarto in pista alle 18 e 30 in pista ah io non ne sapevo niente pensavo di essere rimasta fuori dai giochi quest'anno ma smettila ma tu mi dovevi fare una telefonata io che ne sapevo scusami anzi mi era quasi venuta voglia di cercarmi un'altra squadra con un livello più basso così da poter giocare ah non ne sapevare qua e là ho detto Francesco sei stato maleducatissimo ho detto comunque io lunedì non ci sono che devi fare il compleanno del mio fidanzato andiamo a cena fuori ebbè ma tanto in pressa finisce alle 8 e mezza ma io mi devo fare carina non posso venire alla fine non ci andrò neanche martedì ho spostato lo specchio neanche martedì praticamente all'inizio facciamo lunedì martedì giovedì e venerdì quindi un giorno di riposo e 4 giorni di allenamento questo finché rimaniamo in pista a fare preparazione atletica e poi sempre 3 volte a settimana non ci andrò come ho detto neanche martedì perché ho la feretta ho preso già appuntamento ma dovevo fare la settimana scorsa soltanto che la mia sedista non aveva neanche un buchino per me quindi ci sentiamo poi per la settimana prossima io e se sovracciglie ormai a proposito di estetista deve fare anche le sovracciglie che sono inguardabili io non le so sistemare non sono in grado di spizzettarmele se non leggermente qua ma neanche più andrò qua ormai c'è una foresta amazzonica che io non riesco a gestire più e quindi manco martedì andrò in palestra mi presenterò praticamente giovedì anzi lunedì comunque gli invio un whatsapp per chiedere conferma sui giorni dell'allenamento la parente mi ha fatto arrabbiare avevo pensato che se non fossi stata selezionata per quest'anno ho veramente una squadra di livello inferiore oppure nuoto perché è un'altra dei miei sport preferiti nuotare anche in solitaria ci sono persone che vanno a correre in solitaria io adoro nuotare quindi per me l'estate per esempio non è tanto beach volley perché a me non piace il beach volley da una giocatrice di palla a volo il beach volley per me è no quindi non mi piace però adoro tanto nuotare quando vado a mare a mo' di sirenetta entro e non mi vedete più non ci sono più ora per le labbra non so cosa mettere sono un po' le labbra secche ok continuiamo a parlare questa volta mi sa che non riuscirò ad affrontare la 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 discussione sulle serie tv spero di riuscire a fare un altro video più di più ravvicinato mi escono i termini oggi così vi parlo anche delle serie tv metto un color carne anche perché ho fatto gli occhi belli pieni ok ma sfuga un po' di luce da labbra perché è molto chiaro sono anche leggermente abbronzata quindi ci mettiamo un po' di cio le mani tutte sporche vabbè uso sempre il dito evitare di sporcare l'obligatore ok ragazzi gli ultimi mesi ve li ho raccontati il make up è finito chiedo scusa per la luce un po' brutta oggi ma si è rotta la lampada in cucina si è fulminata la lampadina quindi ho dovuto prendere la lampada bianca che mi comprai per fare i video e ho dovuto la mettere in cucina quindi ora ho la lampada rosa della stanza più i faretti della vanity e il farino della videocamera però so che non è perfetto fondamentalmente non c'è io da mostrarvi nulla se non farci un po' di chiacchiere io ora vi mando un grosso bacio e spero di vedervi presto se va tutto bene vado a registrare un outfit è praticamente un anno che non registro outfit quest'inverno mi sono vestita carina e come piace a me pochissime volte quelle pochissime volte non ho avuto il tempo di registrare il video outfit quest'estate fondamentalmente ho usato più o meno gli stessi outfit un po' modificati rispetto a quelli che vi avevo già fatto vedere gli anni precedenti perché comunque il mio genere è quello non è che lo vado a modificare di anno in anno però stasera metto un vestitino carino e voglio farvelo vedere in più ora però le mani sporche quindi le faccio vedere dopo ho rifatto le ciocchettine rosa con l'ultimo pezzettino che mi era rimasto della maschera di L'Oreal che vi ho recensito ve lo lascio giù nell'info box io ora vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba anche il bacio con volo ciao